ragazzi iscrizione al canale gratis e campanellina se vi fa piacere altrimenti va bene lo stesso allora io voglio dire una cosa una volta al mese dai soliti noti viene sempre fuori questa cosa del rifinanziamento allora io voglio esprimere il mio punto di vista ovvero sia se te comunque vuoi vendere un prodotto in questo caso parlo dei giornali non puoi dire zang rifinanzia si è affidato a goldman sachs e quant'altro devi spiegare come fa rifinanziare cosa che non sono mai riusciti a spiegare domani sera faremo una live attenzione con i ragazzi 90 su 100 ve la confermo in giornata domani sera live con il team smentiremo per l'ennesima volta anche questa baggianata del rifinanziamento anche perché no ragazzi ma poi mi sono arrivati tantissimi messaggi giuse ma come fa un nullatenente a rifinanziare dov'è il cinese io non lo so dov'è il cinese ragazzi è inutile cioè qui qui si incomincia veramente a sfociare nel ridículo non lo so dov'è il cinese io seriamente non so dov'è il cinese non lo so io però ti posso dire una cosa prima di parlare dell'Atalanta che è una squadra molto interessante secondo me cioè questo ragazzo che non si sa dov'è io non lo so dov'è il cinese da quello che scrivono da quello che hanno scritto avrebbe disconosciuto una firma su un prestito bancario da 300 milioni giusto quindi secondo qualcuno come può rifinanziare se ha disconosciuto una firma su un prestito bancario da 300 milioni cioè qualora fosse accertata questa cosa qui io ti sto parlando in riferimento a quello che scrivono eh cioè qualora fosse accertata cioè te mi devi spiegare cosa può rifinanziare cioè ti pregiudica eh qualsiasi possibilità anche di chiedere mille euro cioè è una roba gravissima quella di disconoscere una firma ragazzi ma non scherziamo cioè qui senti in un istituto di reddito e ti sono alla campana rossa se viene accertato il fatto che lui abbia disconosciuto questa firma ma di cosa vuoi ragionare tra l'altro ieri lo abbiamo spiegato per l'ennesima volta l'inter lui non è più quello che decide lui è messo lì come figura l'inter è in mano al governo cinese l'abbiamo spiegato ci sono delle vuote impegno tra glastrast e octri lo abbiamo spiegato ieri con alessandro g ma domani entreremo molto più nel profondo perché è giusto e a costo zero e gratis le persone sappiano la verità qui non si sta parlando di fonti il mio amico mi ha detto e arriva pif puff puff qui si sta parlando di cose serie certificate non si sta parlando del giocatore mi hanno detto arriva o robe simili qui sta parlando proprio di cose certificato lui non può più mettere un euro per l'inter l'inter non può più permettersi un presidente così che fa solo debiti e che parla di e che parla pa lui non parla di rifinanziamenti perché lui non rifinanza nulla ma che si continua a parlare di di rifinanziamenti l'inter ad oggi è una società di calcio che perde otto milioni al mese che ha più di un miliardo di debiti tra bond octri e perdite rinviate grazie a mille proroghe l'inter ha 320 milioni di perdite rinviate 412 milioni il bond 380 milioni octri e continua a perdere otto milioni al mese serve uno con i soldi non servono i prestiti i prestiti ormai vengono vomitati dall'inter non si poteva più andare avanti quando scrivete zaghi di finanza dovete scrivere anche un quali garanzie di finanza come fa a garanziere da garantire dovete dire dov'è ora in questo momento perché io non lo so ditemelo voi siete voi chiedete soldi per far comprare il giornale dove il cinese io non lo so dove il cinese ma di cosa state ragionando e cosa può rifinanziare lui guarda guarda stamattina c'ho un altro modello eccola qua questa qui lui rifinanzia questa vedi questa era di mia figlia guarda questa rifinanzia la tengo per ricordo perché mi piace la tengo in ufficio perché ho dei ricordi bellissimi con questa lui questa qui poi rifinanziare eccola guarda bene come nuova guarda voi domani sera live con i ragazzi entreremo nel profondo perché è giusto tutti gli interisti sappiano la verità anche perché questi signori che collaborano con me hanno anticipato di un anno il new york times ma di cosa ragioni non lo so dove i cinese ragazzi a partito all'atalanta parliamo di calcio basta domani ne parleremo in maniera più approfondita con dei professionisti con degli illustri professionisti prima erano delle figurine poi dopo sono diventati chissà come mai degli illustri professionisti chissà perché l'atalanta ragazzi occhio ti dico una cosa non è l'atalanta di una volta che ti veniva a mordere le caviglie mentre facevi giro palla dietro no 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 è una squadra molto più quadrata rispetto a tre anni fa attenzione eh attenzione all'atalanta perché eh soprattutto in fase difensiva rispetto agli anni passati hanno imparato a gestire la fase della difesa posizionale senza entrare troppo nel tecnico quindi cosa vuol dire che hanno imparato a gestire il pressing prima ti mordeva le caviglie dai primo al novantesimo questo che benefici ti porta ti porta a ad una cosa molto semplice che corri tanto ma corri di qualità correndo di qualità non a vuoto riesce a rimanere più lucido durante la partita e per molti più minuti quindi io l'ho visto contro la fiorentina loro in fase difensiva quando vanno in difficoltà non si schiacciano tengono il baricentro alto e schermano le ricezioni tra le linee degli avversari cioè secondo me è migliorato molto migliorata molto tatticamente l'atalanta è una bella squadra poi ci sono dei giocatori che a me piacciono quando io ti dicevo che scamacca secondo me era da prendere non te lo dicevo sì tanto per dirti una cosa perché scamacca te l'ho detto l'anno te l'ho detto quest'estate sarà il centroavanti titolare della nazionale italiana te mi dirai ma la nazionale fa ridere e io ti dirò trovami un attaccante italiano più forte di scamacca trovamelo non certo lo dico io un 9 un centroavanti quello il 9 che volete tutti all'inter eccola quello 9 vecchio stampo un metro e 95 abbastanza veloce e forte tecnicamente dove vuoi andare con i cinesi quale scamacca ha dovuto prendere arnautovic e sanchez ma di cosa ragioni ci sono tanti giocatori interessanti la tarda cup miners un giocatore a me piace moltissimo l'olandese molto molto bravo ma c'è ederson attenzione ederson perché ederson tra i centromampisti è quello mi piace più di tutti perché è un giocatore di gamba che ha dinamismo è un po come per chi se lo ricorda il vecchio volante brasiliano giocatore veramente forte a me piacerebbe tanto vederlo anche all'inter giuse ma dove lo metti a posto di non lo so mi sto dicendo mi piacerebbe vederlo all'inter quindi è una partita molto interessante quella è tosta a me non preoccupano a me non è che mi preoccupa la prestazione fare all'inter a me mi preoccupa la gestione delle energie e quella è una cosa che mi preoccupa perché questa squadra quando gioca ogni tre giorni la va in difficoltà c'è poco da fare ragazzi anche perché davanti te sei messo bene al centro capo ma davanti non hai ricambi dietro c'hai un marcatore solo che ha cerbi perché devrai è un ottimo difensore ma sull'uomo non ha le caratteristiche che ha cerbi quindi tutta questa grandissima rosa calma calma non lo so dove non lo so dove ti è il cinese ciao intimo